La mia esperienza al Master è stata molto importante perché mi ha permesso di imparare tante cose e di imparare a utilizzare tanti nuovi strumenti, in particolare programmi di grafica e programmi di video editing, ma anche esprimermi in maniera più diretta nei testi. Ho avuto modo anche di conoscere tante persone, professionisti e studenti che mi hanno regalato tante esperienze, tante emozioni nuove e quindi il mio bagaglio personale è diventato più ricco.